Ah, strano. Sta cominciando. Sa. Non ci posso credere. Sta cominciando. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ok. Scusate, abbiate pazienza. Sta a prova. Sì. Ok. Allora, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. È da ieri sera che sto cercando di fare questa live e praticamente non ci sto riuscendo perché praticamente l'OBS non si connette con la rete. Perché? Non si sa. Va bene. Vando alle ciali. Bene. Salve, cari amici. Eccoci nuovamente giunti. Fammelo tenere conto. Sennò poi va a finire che parlo da solo. Ok. Allora, chi vi parla è sempre Lessio Evangelisti. Stiamo facendo una live in privato. Eccola qua. Poi dopo la rendiamo pubblica. Benissimo. Allora, vogliamo fare questa live in quanto vogliamo dare un, come dire, un aggiornamento cronologico delle prossime guerre perché magari si potrebbe concretizzare una certa confusione, soprattutto verso coloro che non hanno molta dimistichezza con le sacre scritture, tanto più che ci troviamo in escatologia. Benissimo. Beh, pare che l'OBS non ci sta tradendo. Abbiate pazienza. Benissimo. Allora. Allora, abbiate pazienza. Ok. Vogliamo prendere la parola di Dio. Ok. Allora. Va bene. Iniziamo subito. Allora. Apocalisse. Apocalisse 16. Allora. La domanda del milione è Ma per caso ci troviamo sull'orlo della terza guerra mondiale? Beh, certo. Se diciamo sull'orlo, poiché la terza guerra mondiale sarà vista dalla presente generazione, potremmo dire sì, però non è che succederà adesso. Perché? Perché la terza guerra mondiale si possa concretizzare, deve, come dire, passare tutta quanta alla grande tribolazione. Verso la fine della grande tribolazione ci sarà questa grande guerra chiamata, nella parola di Dio, Armageddon, la quale si viene a concretizzare in Apocalisse 19, ma viene già preannunciata in Apocalisse 16. Eccola qua. Nel verso 16 dice che essi li radunarono in un luogo detto in ebreo Armegiddo, Armageddon, ok. Abbiate pazienza. Sto vedendo una cosa. Vedete? Il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate. Quindi noi e l'acqua di esso fu asciugata già oggigiorno, ok. Praticamente esiste una diga, credo in Turchia, vado a memoria, che può, come dire, chiudere, insomma, chiudere l'acqua di questo fiume, insomma, in maniera abbastanza importante, vado a memoria, a ciò che fosse apparecchiata la via dei re che vengono dal sollevante. Io vedi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, tre spiriti immondi, che sono demoni, eh. Aguisa di rane. Vi ricordate quando l'abisso fu aperto? Che uscirono fuori delle langoste che alcuni pensano sono le cavallette. No, le langoste sono demoni. Attenzione, vengono dall'abisso. L'abisso è la prigione dei demoni. Perciò che sono spiriti, vedi, spiriti di demoni, ecco qui la parola di Dio è nero su bianco, i quali fanno segni, vedi, c'è una sorta di trinità satanica anche qui, escono fuori ai re di tutto il mondo per radunarli, vedete, i re di tutto il mondo sono sotto il gioco del, diciamo, del principe del presente secolo, che è Satana, per radunarli alla battaglia di quel grande giorno, vedi, il grande giorno, quel giorno, quel giorno, è il giorno dell'Apocalisse, il giorno del Signore, di questo ne abbiamo già parlato, dell'idea onnipotente, ecco io vengo come un ladrone, beato che veglia e guarda i suoi vestimenti, perciò che non cammini nudo e non si vegano le sue vergogne, e si li radunarono in questo luogo detto in ebreo, Armageddon, Armeguito. Bene, qui si concretizzerà, diciamo, l'ultima grande guerra, che, alla luce di quello che è successo nella storia, e di quello che stiamo vivendo oggi, sappiamo che sarà l'ultima grande guerra, ovvero la terza guerra mondiale. Sappiamo che sarà la terza guerra mondiale perché, in questo momento che siamo presso proprio tutte queste cose, ci sono solo state due grandi guerre. Ecco qui, un'altra volta, riapparire il numero tre. Il numero tre è molto comune, sempre in onore al fatto che c'è un padre, un figlio e uno spirito santo, quindi una trinità. Benissimo, questo è molto importante. Ora, quello che noi stiamo aspettando adesso, in questo momento oggi, che è il 9 gennaio del 2020, non è questo, perché questo si concretizzerà alla fine della grande tribolazione, poi, leggendo Apocalisse, capitolo 19, ok, ci rendiamo conto che poi, in questa grande guerra, il Signore, in quel momento, dice che tutti i re furono radunati in Armageddon, quindi dentro Israele. Cioè, fate attenzione a quello che dice la scrittura. Allora, i re di tutto il mondo furono radunati in battaglia, dove? In Armageddon. Quindi, i re di tutto il mondo, quindi tutto il mondo, se voi leggete Zaccaria, capitolo 14, capitolo 12, parla di questo, dice anche che il Signore tornerà in quel momento e poserà i suoi piedi sul monte degli Ulivi. Quindi, i re di tutto il mondo saranno radunati in Israele. Perché saranno radunati in Israele? Perché il diavolo vuole sterminare gli ebrei. Perché se il diavolo stermina gli ebrei, praticamente gli ha vinto a Dio. Perché gli ha vinto a Dio? Perché ci sono delle promesse su Israele, che Israele non sarà mai sterminato. Ora, se Er Satanasso riuscisse a sterminare Israele, avrebbe dimostrato che lui è più forte di Dio. E quindi che lui sarebbe Dio se è più forte di Dio. Vedete come il marchigegno satanico, come è cattivo? Ecco, ora noi sappiamo che questo maledetto serpentaccio, che il Signore lo sgridi, non è né Dio e né più forte di Dio. È solo una grande capra, come tutti i suoi figli. Ecco perché i figli di Satana sono capri. Perché il loro padraccio è una capra. Ecco perché. Quindi questo ci fa capire che, se stiamo alla fine dei tempi, in questo momento, e stiamo alla fine dei tempi, l'antisemitismo dovrebbe crescere a dismisura. Questo anno, cioè scusate, l'anno precedente che adesso è passato, ma io adesso sto improvvisando tanto, eh. Allora, il 2019 è stato l'anno con una crescita esponenziale per quanto riguarda il rimpatio degli ebrei nella loro terra, che è Israele. Questo avviene per profezia biblica, per comandamento biblico, perché gli ebrei hanno l'ordine da parte del Signore di vivere in Israele. Quindi un ebreo che non vive oggigiorno in Israele non si trova nella volontà del Signore. Alcuni cercano di rifugiarci, di rifugiarsi, dicendo, no, ma io sono il rabbino, se vado via io, poi quelli che stanno qua non possono essere seguiti, quindi per me non vale, no. Tu sei una capra agnostica come tutti quanti l'altri. La legge vale per tutti, ok? Intanto tu che sei il rabbino inizi a dare il buon esempio e ubbidisci alla parola del Signore. Non mi venire con queste storielle. Adesso mi sto rivolgendo sempre in modo, come dire, rispettuoso, ma io parlo così, anziché Dio vi benedica al mondo ortodosso e ultra-ortodosso, anche al mondo sefardita. Gli altri manco li considero, tranne i Karaiti, i Riformizi e tutta sta gente qua, perché questi proprio, lasciamo stare, poi non parliamo dei pseudomessianici, poi loro, in verità, già quando si accetta Cristo già si fuoriesce da tutto questo, eh. Ecco, questo vale solo per gli ebrei che non sono in Cristo, perché loro hanno l'Antico Testamento, non hanno nuovo, c'è tutta un'altra storia. Così, diciamo, parlando del più e del meno, imparate anche un bel po' di cosette importanti. Quindi ci sarà questa grande guerra. Ora, noi adesso, in questo momento, non stiamo vivendo, diciamo, aspettando questo nell'imminente, perché questo si deve ancora entrare nella grande debolazione, arrivare alla fine e poi, alla fine, verso la fine dei sette anni, si entra in questo periodo qua. Quindi, però già vediamo la piattaforma, vediamo che, ma di questo ne abbiamo già parlato, i re di tutto il mondo, vedete, oggi c'è la globalizzazione, oggi c'è l'antisemitismo, oggi c'è la piattaforma completamente costruita, veramente, non manca più niente. Quindi, cosa dobbiamo attenderci ora nell'imminente? Allora, prima di questa grande battaglia, chiamata l'ultima battaglia, la battaglia dell'armagedonne, la prossima grande guerra, la terza guerra mondiale, ci devono essere due, due, due guerre molto importanti, da un punto di vista biblico. La prima guerra si trova in Gog e Magog, o una delle due, e la seconda guerra si trova nel Salmo 83. Noi abbiamo già fatto dei video dove abbiamo spiegato che non esiste alcuna interazione fra la guerra del Salmo 83 e Gog e Magog. Non c'è alcuna alterazione. Il perché è molto semplice. se tu guardi le nazioni, io qui ho per esempio tutte mappe bibliche sono tante, se tu guardi tutte le nazioni che vengono coinvolte in Gog e Magog e Ezechiele 38 e 39 e le nazioni del Salmo 83 non sono le stesse. Sono completamente diverse. Quindi dire che il Salmo 83 è Gog e Magog di Ezechiele 38 e 39 vuol dire proprio a parte non capire un H di Bibbia ma essere proprio ignorante in geografia. Perfetto. Quindi sono due cose completamente diverse. Poi la la battaglia di Gog e Magog è sita in Ezechiele 38 e 39 eccolo qua questo è Salmo 83 la battaglia di Ezechiele 38 che ne abbiamo già parlato quando parla di Gog e Magog abbiamo fatto più video volgi la tua faccia verso Gog paese di Magog ti da tutte quante le nazioni ci sono le capre soprattutto le capre antiterinitari che sono talmente ignoranti che proprio vogliono dar contro la parola di Dio perché la odiano questa è la verità vi dicono a voi che magari non conoscete bene la parola di Dio che questa qui questa Gog e Magog non è altro che questa qui sita in Apocalisse 27 quando parla di Gog e Magog no sono due cose completamente diverse perché questa qui si trova dopo il millennio eccolo qua quando quei mille anni saranno compiuti allora Satana sarà sciolto dalla sua prigione cioè dall'abisso uscirà per sedurre le genti quindi tutto il mondo che sono ai quattro canti della terra quindi qui Gog e Magog alla fine del mondo ecco qui siamo alla fine proprio del mondo quando il mondo infatti adesso non stiamo aspettando la fine del mondo quando il mondo finirà dopo i mille anni finiranno i mille anni si entrerà in un altro giorno in un altro periodo in un altro millennio che non dice la parola di Dio quanto durerà questo periodo che Satana sarà sciolto non lo dice può durare pochi anni può durare una generazione può durare nessuno lo sa però è un altro giorno un altro periodo un altro millennio allora quando questo qui si concretizzerà allora se Satana sarà sciolto sedurrà tutte le genti che sono ai quattro canti della terra e il primo Gog e Magog è diventato talmente simbolico famoso importante che ormai è diventato diciamo una forma di di status insomma viene preso in prestito di nuovo il termine per rammemorare il primo Gog e Magog il primo Gog e Magog tu puoi contare tutte quante le nazioni che sono tutte le nazioni della vecchia urse quindi tutta la vecchia urse con tutta la parte di sotto il Turkestan Tijikistan Pakistan Giorgia fino alla Polonia Ucraina eccetera 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 e poi abbiamo la parte turca e in primis in primis il primo popolo che lui ti nomina dopo aver precisato Gog Magog e Mesec è proprio la Persia quindi te li nomina tutti i popoli mentre invece qui ti dice tutto il mondo mentre invece qui non è tutto il mondo fate attenzione agli antiterinitari sono sono anche molto bugiardi mi mettono sempre in bocca a me Alessio ha detto questo Alessio ha detto quest'altro Alessio ha detto quest'altro quando vi dicono Alessio ha detto questo link grazie minuto dove ha detto questo perché sono dei bugiardi come scritto in proverbi capitolo 10 che chi mente odia da morire è pericoloso quindi fate attenzione quindi la la prossima guerra una delle prossime guerre che noi dovremmo vedere è questa Gog Magog che non c'entra niente con questa qua quindi questa la togliamo e chiudiamo non ci importa quindi adesso atteniamoci a quella di oggi quella dei nostri giorni il mondo sta per vedere questa grande guerra che come primo protagonista dopo la Russia insieme alla Russia probabilmente è gettonatissima l'ipotesi della Turchia eccetera 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 abbiamo fatto i video dedicati ecco casomai poi li metterò in descrizione il primo protagonista è proprio la Persia infatti oggi noi dovremmo vedere a distanza di 2500 anni vedere che la Russia è una superpotenza militare che la Persia anche sta messa bene militarmente e che sia la Persia che la Russia ovvero l'Iran sono alleati a distanza di 2500 anni la domanda del milione recita tutto questo oggi si è concretizzato domanda sì quindi che percentuale esiste qual è la probabilità che tutto questo con tutte queste nazioni a distanza di 2500 anni si sia perfettamente concretizzata questa profezia per caso qual è la percentuale se prendi uno bravo in matematica uno che veramente ci sa fa ti dirà che la percentuale è infinita e ha decine 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 di numeri quindi qui c'è proprio la parola di Dio ok lasciate stare poi gli ignoranti che dicono che queste cose le concretizza l'uomo apposta sì è uguale 2500 anni la parola di Dio avrebbe previsto che migliaia di profezie sarebbero state concretizzate dagli uomini che stanno a pensatutto meno che alla Bibbia l'inferno l'inferno voi lo volete io contesto quelli della predestinazione scusate che dicono che Dio che è Dio che manda le persone all'inferno no certo che è Dio che le manda all'inferno ma perché ci vogliono andare loro perché Dio è morto per tutti e il sì vero è che non tutti hanno la fede scritto ma quando noi leggiamo non tutti hanno la fede domanda tutti credono in Cristo dice no ecco quindi se non tutti credono in Cristo non tutti hanno la fede in Cristo ma tutti hanno la possibilità di credere in qualcosa quindi tutti hanno la possibilità di credere perché ci stanno gli altri che hanno più fede di noi perché credono che dal niente sia nata la terra e tutto quanto dal nulla quindi io in questo vi contesterò sempre io contesterò perseguiterò sempre pur rispettando le persone ma perseguiterò le strasataniche dottrine della predestinazione e che la Chiesa passerà per la grande tribolazione e smettetela di dire sciocchese di Bancura c'è gente che crede che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione no siamo siete voi quattro gatti non noi informatevi meglio almeno abbiate la decenza di informarvi mi dispiace io contesto queste dottrine e le perseguito le persone restano care persone ci stanno quelli che veramente sono care persone che temono di Dio e tantissimi altri che quindi distinguiamo poi sempre da persona a persona però la dottrina sparo a zero bene come giusto che sia quindi tutti possono non tutti hanno la fede perché non tutti credono in Cristo ma tutti possono credere in Cristo perché Gesù è morto per tutto il mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna chiunque poi gloria a Dio quindi noi vediamo adesso che Gog e Magog è la prossima guerra ora la domanda del milione è e qui bisogna essere obiettivi anche umili troppa improvvisazione mettersi a dire quando si concretizzerà Gog e Magog in modo tassativo non è rispettuoso nei confronti della parola di Dio perché nessuno lo sa cioè noi non lo sappiamo perché ci sono due possibilità su Gog e Magog ovvero o si concretizzerà dentro una grande tribolazione oppure poco prima che questa inizi poco prima del rapimento della Chiesa quindi se fosse così la Chiesa la vedrebbe ma nessuno lo sa nessuno può dire io posso dire io penso questo allora sì se me lo proponi come tuo pensiero sottolineando che è un tuo pensiero ognuno di noi è libero di pensare quello che gli pare purché ovviamente non vada contro il fondamento biblico certamente però quello che io voglio dire è che non si può dare per tassativo qualcosa che non ha nulla di tassativo ragion per cui dobbiamo essere rispettuosi e obiettivi e dire come stanno le cose quando si concretizzerà Gog e Magog non lo sappiamo potrebbe essere poco prima della grande tribolazione oppure dentro la grande tribolazione quindi o nella prima parte della grande tribolazione agli inizi o quello che sia oppure verso la metà sono ipotesi ecco più o meno queste tre posizioni ci sono ovvie poco prima della grande tribolazione oppure appena inizio oppure verso la metà ecco e questo leggendo un pochino la grande tribolazione si il giorno del Signore si capisce quindi quello che noi sappiamo per certo è che c'è già la piattaforma pronta infatti la Russia è una potenza la Russia sta riprendendo piede alla grande la Russia insieme la Cina può tenere testa a tutto l'Occidente a tutti gli Stati Uniti eccetera eccetera gli Stati Uniti con quello che stanno combinando stanno via più sempre uscendo dallo scenario mondiale tant'è che ormai nessuno vuol più nulla avere a che fai i vi compresi gli europei che si sentono molto strangolati per quello che loro gli americani i nord americani stanno combinando non li vogliono più in Medio Oriente per quanto riguarda il solito intermediario tipo metti l'Iran con l'armamento nucleare o il patto israelo-palestinese che loro prima stavano in call position adesso nessuno più li vuole quindi stiamo vedendo che gli USA stanno sempre via più uscendo dalla scena mondiale fino che secondo noi quando proprio il mondo entrerà nel giorno del Signore che è la grande tribolazione allora lì a quel punto proprio la profezia biblica ci fa capire che tutto si concretizzerà tra Europa Asia Medio Oriente Oriente e parte dell'Africa questo è quindi tutto il restante sarà marginale e non rientra come non rientrano come protagonisti primi della profezia della parola di Dio basta vedere Daniele capitolo 2 e tutte quante le altre profezie di Daniele questo è quanto quindi tutto questo è molto importante quindi noi stiamo vedendo da una parte questo dall'altra parte abbiamo la guerra del Salmo 83 che è praticamente qui entra da come dire primo protagonista anche qui ci sono gli ebrei anche qui e infatti qui dice no non star tenecheto non riposarti perché oh signore insomma i nemici rumoreggiano infatti noi vediamo che i nemici di Israele che lo circondano stanno sempre a far umore a strillare eccetera 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 lo stanno sempre a minacciare lo stesso Iran sono decenni che sta minacciando Israele di sterminarlo noi semplicemente stiamo raccontando i fatti poi se qualcuno se la prende a male è un problema suo noi benediciamo tutte le nazioni ovviamente benediciamo anche Israele perché è scritto di benedirlo e che chi non lo benedice sarà chi lo maledice sarà maledetto e chi lo benedice sarà benedetto quindi noi lo benediciamo quindi hanno preso un cauto consiglio contro il tuo popolo vedete qui sta parlando degli ultimi tempi e Israele viene chiamato popolo di Dio e quindi noi andiamo a denunciare tutte le capre che dicono che Israele non sarebbe popolo di Dio siete dei caproni convertitevi ora non stiamo dicendo che sono salvati capite guardate i nostri video antidenitari ignotici e quant'altro e imparate un po' di Bibbia si sono consigliati contro quelli che sono nascosti presso di te e poi ti comincia a dare insomma i nomi e ti dice appunto Edom Moab Edom Moab poi c'è Ammon non so se qui te lo dà più avanti che sarebbe praticamente tutta la Giordania allora allora eccola qua ok questa qua questo è Ammon questo è Moab questo è Edom e tutta la Giordania se io vado qua allora se io vado qua ok allora eccolo qua vedete ops eccolo qua vedete se voi ci fate caso allora questo ah già stava qua ok va bene vedete Ammon qui Moab sta qua eccolo qua Moab Ammon Moab Edom Ammon Moab Edom sta qua sotto ok questa è Gerusalemme questa è tutta la Giordania questa è la Cis Giordania che è dall'altra parte del fiume allora infatti voi vedete ok che qui ci sono delle nazioni e qui ci sono delle altre nazioni e sono tutte nazioni che stanno intorno a Israele Moab gli Agareni quindi Agarre sono Agarre è Egitto rappresenta Egitto ma non solo tutte quelle tribù che stanno intorno a Israele allora questo lo metto qua ok tutte quelle tribù che stanno qua sotto intorno a Israele ok poi va bene Gebal Ammon Amalek non c'è più per esempio eppure viene richiamato negli ultimi tempi Amalek è praticamente erano imparentati con gli ebrei e Amalek veniva dalla discendenza di Esau se tu leggi Genesi 36 Deuteronomio 25 Genesi 36 eccetera 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 leggerai che Esau è Edom quindi Amalek ha a che fare diciamo con tutta questa con tutta questa parte qua che sta qua sotto eccola qua ora noi qui siamo intorno pieni di tutti i gruppi terroristici che sono completamente antisemiti anti-ebrei i filistei non ci stanno più però c'è ci sono appunto Gaza eccola qua la striscia di Gaza dove ovviamente sono tutti arabi lasciamo stare la maggior parte e qui praticamente rappresenta i filistei questo spirito di Hamas e tutti quanti i gruppi terroristici praticamente molti insomma ognuno ha il suo il suo nome e insomma viene richiamato appunto qua insieme agli abitanti di Tiro quindi Tiro dobbiamo salire qua sopra ok eccolo qua Tiro eccolo qua eccolo qua Tiro sta qua sopra va bene eccolo qua Tiro e ci troviamo di rimpetto a Libano che è questa parte qua questo è molto importante no infatti Gebal i Gebaliti sono vicini a Tiro Gebal è qua e da queste parti qua di Tiro qui sta Ammon Amalek Filistei Tiro poi ci sono gli Assiri eccetera 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 quindi ora tutta questa gente quindi che sta qui intorno a Libano tutta la Ammon Amman Ammon Moab Edom insomma sta parlando di tutta quanta la gente che circonda Israele l'hanno praticamente adunato attorniato l'hanno attorniato al 100% mentre invece Ezechiele 38 Gog e Magog che sono tutti altri popoli che sono popoli che vengono insomma da questa parte qua ecco qua Turchia Asberdian Turkmenistan Uzbekistan Tajikistan Afghanistan Pakistan Kazakistan con a capo Roche che è questo Russia eccolo qua infatti se io vado a vedere allora eccolo qua qui guarda il settentrione gli dice a Gog e Magog in Ezechiele 38 questa questa è Israele qui c'è Gerusalemme al settentrione se tu vai dritto per dritto per dritto per dritto per dritto per dritto c'è Mosca non ci fa non ci fa una piega Gog e Magog di Ezechiele 38 è una cosa il Salmo 83 sono tutti tutte queste nazioni che appunto abbiamo appena visto che girano intorno insomma fate attenzione a chi ascoltate fate attenzione perché ci sono antidenitari gnostici che vi raccontano una marea di frottole non sanno niente abbiate pazienza che io sono così drastico e me la prendo me la prendo perché non sopporto più i giovani che si mettono a segnare quattro anni di fede diventano qua su giù questi gnostici che non capiscono niente vabbè quelli non parlo dei gnostici che per me contano come zero parlo dei gnostici ad Amaro Biglino di questi grossi quelli piccoli per me non contano zero ecco gli antiterinitari i Torben Sondergaard che addirittura fanno riti satanici con questi battesimi che tirano fuori gli indemoniati se faremo qualche altro video di riflessione David Ofwar un massone uno stregone poi parleremo faremo delle previsioni anche noi di terremoti secondo la Bibbia altro che c'è bisogno di un massone per questo eccetera eccetera quindi le prossime due guerre che si avvicinano sono il Salmo 83 e la diciamo Gog e Magog la domanda del milione è la Chiesa le vedrà queste due guerre ora molti dicono che per quanto riguarda il Salmo 83 sì la Chiesa vedrà questa grande guerra perfetto ognuno è libero di dire quello che vuole io non dico sì perché come faccio a dire sì in modo tassativo su cosa mi devo basare su cosa mi posso basare chi mi dice che questa guerra non si concretizzerà appena la Chiesa sarà tolta e si entrerà nella grande tribolazione chi me lo dice diciamo che potrebbe essere potrebbe essere di sì potrebbe essere di no io non mi metto a improvvisare cioè se una cosa non la sai signore mio dillo state zitto perché poi gli fai dire la parola di Dio cose che questa non dice ok io non lo so una cosa è certa la piattaforma è pronta una persona mi ha fatto una domanda e mi ha chiesto una domanda intelligente l'Iran c'entra qualcosa con il Salmo 83 buona domanda allora come discorso circoscritto la risposta netta è no no perché l'Iran si trova questo lo tolgo perché sennò ci fa solo che confonde l'Iria l'Iran si trova solamente nell'Ezechiele 38 punto per quanto riguarda il Salmo 83 l'Iran non c'è quindi non c'entra niente sono due cose completamente diverse quello che però io ho visto che si è concretizzato oggi tra il problema che si sta concretizzando adesso fra gli Stati Uniti di America e l'Iran mi ha fatto riflettere e mi ha detto aspetta un po' qui c'è qualcosa che mi sfugge perché voi sapete che insomma prima l'Iran ha attaccato gli Stati Uniti gli ha attaccato l'ambasciata gli ha ammassato un sacco di gente poi gli Stati Uniti se sono arrabbiati gli hanno ammassato il generale poi gli Stati Uniti l'Iran gli ha mandato dei missili in due basi degli Stati Uniti in Iraq con qualche decina di missili e ci sono stati un sacco di morti eccetera prima ancora erano successe altre cose eccetera eccetera tutto questo adesso andrà a far sì che si possano concretizzare determinate cose per esempio voi sapete che i sciiti sono gli iraniani i filo iraniani e i sunniti sono praticamente gli arabi tra sunniti e sciiti i sciiti sono quelli meno numerosi i sunniti sono quelli più numerosi però i sciiti sono quelli più arrabbiati tra sciiti e sunniti si sono sempre ammazzati ora con tutto quello che sta succedendo si sta concretizzando in più parti del medio oriente si sta concretizzando una sorta di che insomma stanno ricominciando a dialogare nuovamente tra sunniti e sciiti scusate sa che stanno cominciando a ridialogare non dico in tutto il mondo medio orientale ma insomma ci sono per esempio un posto su tutti in Iraq noi vediamo che tra sciiti e sunniti si comincia a dialogare nuovamente in più gloria a Dio vogliono far fuori approfitteranno gli iraniani per far sì che alcune alcune frange estremiste che praticamente tendono a combattere loro i sciiti eccetera 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 che molte di queste sono state create da occidente quindi dagli stati uniti eccetera 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 ok possano in qualche maniera essere annichilite quindi in questo momento l'iran sta concretizzando un certo tipo di discorso non pensiate che quando non succede nulla che non volano bombe in verità non si stia concretizzando nulla no al contrario c'è sempre un qualcosa che si sta concretizzando quindi tutto questo è molto importante ora diciamo che tutto questo che sta succedendo adesso in qualche maniera potrebbe star preparando anche se l'iran non c'entra nulla direttamente col salmo 83 però sta aiutando a far sì che la piattaforma di sottofondo si concretizzi e quindi tutte queste queste cose queste fazioni queste queste nazioni queste diciamo questi antisemiti tipo Amalek che no che si trovano a circondare Israele ok in qualche maniera vengano rafforzati anche dal pensiero ideologico perché noi sappiamo che quando gli Stati Uniti fanno una cosa in automatico lo fa anche Israele perché sono due alleati molto importanti e questo c'entra anche per un certo discorso che poi vedremo verso la fine quindi tutto quello che sta succedendo adesso è molto importante ora io voglio fare un'altra considerazione e voglio andare a chiudere noi sappiamo che l'Iran c'entra nella profezia biblica non solo per il come dire il fatto che sta in Gog e Magog quindi nel come dire Gog e Magog Ezechiele 38 ma c'entra anche per Geremia 49 quindi Geremia 49 mettiamo la riveduta un attimino e lo troviamo qua ora sia Damasco Assur Kedar attenzione qui pure siamo alla fine dei tempi siamo con Iraq Kedar e Assur sono Iraq è la parte diciamo alta dell'Iraq e poi ci sono gli Elamiti ora la domanda del milione è questo che avverrà negli ultimi diciamo avverrà negli ultimi giorni tutto questo Elam ora questa guerra qua che ci sarà nei confronti dei persiani o degli iraniani c'entra qualche cosa con questa distruzione con Gog e Magog alcuni dicono di sì io dico non lo so io dico non lo so non so questa questa qua Geremia 49 anche perché qui c'è anche Damasco quindi non è detto che c'entri quando si concretizzerà questo prima di Gog e Magog o dopo Gog e Magog o durante Gog e Magog potrebbe essere quello che posso dire è che secondo me potrebbe tranquillamente non centrare nulla una cosa è certa la piattaforma è pronta questa profezia è stata fatta non lo so sta venendo lungo il video allora dove sta a Asaf sì e a Asaf siamo intorno intorno al 1000 avanti Cristo quindi c'ha 3000 anni sta 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 profezia appa già passata un'ora va bene questo è quanto va bene quindi noi adesso stiamo assistendo a questo quadro quindi che cosa succederà adesso nell'immediato per quanto riguarda l'Iran ma guardate io non è detto che ci dobbiamo aspettare adesso bombe super bombe distruzioni tutto il meglio rientra in fiamme in modo tassativo ovvero chi vivrà vedrà potrebbe succedere potrebbe anche non succedere ovvero non succedere adesso nell'immediato ma da qui a qualche anno state tranquilli che tutto questo si concretizzerà ma adesso nell'immediato potrebbe pure non succedere tutto questo una cosa è certa io l'ho detto e torno a ripeterlo morto questo generale Solemani questo generale Qassam Qassam Solemani morto lui è un prima e un dopo Qassam Solemani ovvero come c'è stato un prima e dopo le torri gemelle così come c'è stato un prima e dopo la crisi del 2008 la crisi delle banche che è stata una crisi delle banche non c'entra niente la popolazione che ci hanno appioppato che è colpa nostra quelle sono state le banche che hanno fatto l'impicci e poi i governi in particolare il governo degli Stati Uniti ha preso i soldi dei contribuenti e gliela ha date alle banche e da lì è crollato tutto il mondo tutto il mondo che prima il mondo come dire era inattivo quindi aveva una economia attiva chi all'1% chi al 3,5% chi di più e da quel momento in poi quasi tutto il mondo sta in recessione ovvero una altissima percentuale del mondo si trova stagnato e vi compresa l'Italia quindi non si va né indietro ma neanche avanti con l'eccezione della Cina che sta tipo all'8% di crescita del Pille l'Indonesia al me pare al 6% perfino la Thailandia sta in crescita eccetera 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 tutta quella parte là sta in crescita ma il resto il resto del mondo tutto l'Occidente tutto il tutta diciamo l'Unione Europea è stagnata bene quindi come ci fu un prima e dopo 2008 un prima e dopo 2001 per le Torri Gemelle così adesso ci sarà un prima e dopo Hassam Soleimani perché anche se nell'imminente nell'immediato non vedremo con gli occhi delle cose ma state pur tranquilli che sotto sotto l'Iran e anche gli altri stanno lavorando stanno facendo delle cose importanti stanno concretizzando dei rapporti con altre nazioni e soprattutto con gli altri islamici e soprattutto vogliono andare a riemarginare quelle ferite che esistono tra appunto sciiti e sunniti questo è molto importante per poi appunto andare a concretizzare poi prossimamente si andranno a concretizzare tutte queste grandi guerre quindi la situazione cronologica per quanto riguarda le prossime guerre sono Salmo 83 Gog e Magog Damasco Iran che da Rassor qui siamo con Iraq quindi anche questi gruppi terroristici e quant'altro fazioni che si trovano lì questa è Damasco e poi qui abbiamo Edom vedi la Giordania interessante Ammon vedete tutta questa parte qua quindi i protagonisti qui sono appunto Israele e tutte queste parti qua e è così noi stiamo vedendo oggi che a distanza di 3000 anni a distanza di 3000 anni che sono state predette queste cose per una infinità di nazioni per una infinità di situazioni cioè quelle profezie sono centinaia centinaia è che tutto il mondo si sarebbe messo d'accordo per mettere in pratica tutte queste profezie di 3000 anni fa di 2500 anni fa ma chi pensa una cosa del genere altro che non tutti hanno la fede questi hanno una fede infinita infinita mentre invece noi vediamo proprio i fatti che ci portano a credere che la parola è di Oessia e amè e questo è quanto benissimo un altro fatto importante è che lo stretto di Ormus che è molto importante questo stretto di Ormus allora eccolo qua sta qua questo è lo stretto di Ormus che praticamente passa qua ok questa qui è la parte più calda diciamo questo è lo stretto di Ormus praticamente qui se ti bloccano lo stretto di Ormus ok vedi qui ci sono gli Emirati qui c'è l'Oman che è una zona molto tranquilla qui c'è lo Yemen una delle zone più calde sulla faccia della terra mai quanto il Messico lasciamo stare ok qui c'è la rabbia insomma eccetera 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 se questo viene bloccato praticamente noi avremo una crisi mondiale di petrolio tenete presente che in questo qualche quando è stato un anno fa l'Ayatollah Ali Khamenei che ricordo che chi governa l'Iran è l'Ayatollah non è il primo ministro se così lo vogliamo chiamare non è il presidente è l'Ayatollah Ali Khamenei prima c'era l'altro Ayatollah che si chiamava Khamenei che praticamente l'Ayatollah entra in carica e dura in carica tutto il tempo che vive allora questo questo Ayatollah ha detto che hanno trovato un un altro sito pieno di petrolio dove hanno 72 mila milioni di barrilli di petrolio cioè praticamente noi sappiamo che adesso se non vado in rato la prima nazione produttrice di petrolio al mondo è il Venezuela praticamente con tutto questo petrolio diventa insieme al Venezuela o pari al Venezuela o praticamente la seconda nazione con più petrolio al mondo solamente con questo giacimento di petrolio ha trovato più del petrolio quanto ne possiede tutto il territorio degli Stati Uniti di America e quindi hanno petrolio solamente con questo giacimento per 72 anni e per quanto riguarda tutti i giacimenti che hanno per oltre 120 anni c'è una cosa sproporzionata è chiaro che tutto questo petrolio e non solo lasciamo stare poi il resto fa gola ecco pure come bisogna vedere un pochino la situazione ora se questo stretto qua viene chiuso noi ci ritroveremo a dover affrontare una crisi economica peggio di quella del 2008 praticamente tutto quello che noi andremo a comprare dalla semplice frutta dalla luce dai riscaldamenti dalle macchine dal biglietto della metropolitana qualsiasi cosa perché tutto si muove grazie a questo ok perché si bloccherebbe tutto praticamente ci sarebbe una crisi finanziaria pazzesca potrebbe succedere un disastro e quindi i tempi che si prospettano sono molto duri e difficili la parola di Dio nei profeti minori in Apocalisse capitolo 6 e non solo ne ha parlato di tutto questo e infatti ha detto poi che il denaro non avrebbe avuto alcun valore tant'è che sarebbe stato gettato dalle finestre ecco qui che poi in Apocalisse capitolo 13 ci viene a dire che il come dire il nuovo sistema monetario sarà di tipo appunto diciamo non monetario ma digitale e così via discorrendo considerate che se questo se questo viene chiuso il barrile del petrolio potrebbe essere sparato il prezzo fra i 2 e i 300 dollari a barrile una cosa mostruosa mostruosa quindi stiamo vivendo in tempi che tutto questo poi si concretizzerà presto o tardi magari non succederà oggi magari non succederà tra pochi mesi ma da qui nei prossimi anni imminenti succederà inoltre quello che gli americani non hanno saputo valutare è il il concetto di martirio che avevano gli iraniani cioè loro hanno pensato qualora fosse veramente stato messo un preventivo perché poi ci sono state altre notizie da parte dei servizi israeliani che tutto sarebbe stato un errore ma non ci credo non è vero è improponibile una cosa del genere praticamente loro pensavano di abbattiamo diciamo questa grande figura di solemani in maniera tale da incutere timore nella popolazione ma io dico ma come si può essere più ingenui che questi hanno il concetto di martirio infatti sono usciti tutti quanti e tutti quanti che sono pronti a affrontare il martirio ora attenzione il martirio sciita non è il martirio del wahadismo il wahadismo che cos'è il wahadismo fa parte della diciamo esce fuori dai diciamo dai sunniti se è un gruppo estremista dove si si vanno a a martirizzare cioè se mettono quattro bombe addosso e se vanno scoppiare in mezzo della gente civile comune e corrente nello nello sciismo questo questo concetto di martirio non solo non esiste ma viene condannato però c'è un altro un altro concetto di martirio ed è il concetto che praticamente la persona va a lottare per la propria patria e nel lottare per la propria patria contro altri contro dei soldati eccetera eccetera se muore è un martire e questo viene ben visto dalla società sciita ecco il concetto di martirio e loro fanno a gara per questa cosa qua quindi quando gli americani hanno fatto quello che hanno fatto uccidendo questo dicendo adesso noi andremo a destabilizzare la popolazione ma che è unita più che mai anzi si andranno probabilmente è una ipotesi a unire i sunni decidi ancora di più infatti stanno facendo del tutto sia gli iracheni ora mi è venuto a mente un'altra cosa sia gli iracheni che gli iraniani di buttare fuori gli Stati Uniti da tutto il sito medio orientale infatti c'è stata una riunione due giorni fa mi pare in Iraq dove è stato proposto di far uscire fuori gli americani dall'Iraq ok ora questo si deve convertire in legge e noi sappiamo come è stato scritto anche in un libro chiamato Confessioni di un sicario che praticamente gli americani vanno dai governanti che stanno lì in quel momento li vedono a quattro occhi li fanno sedere in una bella scrivania e sulla sulla scrivania mettono da una parte una valigetta piena di soldi e dall'altra parte una magnum 45 funziona così quindi vedremo quello che succederà prossimamente chi vivrà vedrà bene e questo è quanto bene una cosa è certa come dice un detto ebraico quando lanci una pietra nell'acqua anche se la pietra cade in un punto preciso e fa un danno in quel punto preciso poi le onde dell'acqua vanno oltre e hanno delle ripercussioni anche a a lungo termine se non addirittura a corto termine bene l'ex leader della guardia rivoluzionaria dove appunto quello che è stato ucciso era diciamo il leader della guardia rivoluzionaria iraniana l'ex leader della guardia rivoluzionaria ha minacciato e ha detto che se le cose dovessero andare avanti per quanto riguarda gli Stati Uniti ovvero se gli Stati Uniti attaccano l'Iran gli iraniani attaccheranno una città di Israele nello specifico Haifa ok quindi sotto al Libano questo diciamo è il quadro della situazione questo è quello che ci spetta noi non è che adesso vedremo la terza guerra mondiale noi vedremo delle prossime guerre le prossime guerre non sappiamo se le vedremo Gog e Magog il Salmo 83 e non sappiamo se vedremo la guerra contro Damasco contro l'Iran la distruzione eccetera 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 ma la piattaforma sì la stiamo vedendo e poi chi vi vorrà vedrà volevo fare un video e con questo vado a chiudere l'anno scorso verso dicembre per quanto riguarda questo qui lo posso chiudere questo discorso qua qui ci troviamo in Iris allora lasciate stare questi massoni tipo David Howard che vanno facendo previsioni di terremoti che parlano con Dio il Signore mi ha detto il Signore mi ha fatto poi dice ed esse uno dei due profeti dell'Apocalisse dice ed esse tutte e due poi dice ed esse Elia lasciamo stare lui e chi va dietro che ci dicesse l'ora il posto esatto e il giorno esatto del terremoto se fa presto dice sarà un terremoto ce lo dice la parola di Dio ora io non sono un profeta che sia chiaro però alla luce della parola di Dio posso opinare opinare cioè dire quello che io penso che può essere giusto può essere sbagliato e è una mia idea e ho il diritto di farlo allora quello che dice la Bibbia è che i terremoti aumenteranno quindi io mi basso su questo e ci saranno grandi terremoti in virtù di quello che dice la parola di Dio e in virtù del fatto che siamo entrati proprio nel conto proprio finale verso la grande tribolazione e il rapimento della Chiesa secondo me i terremoti di magnitù 6 da 6 in poi comincerà potrebbero molto probabilmente cominciare già da questo anno dal 2020 oggi è gennaio 9 gennaio 2020 secondo me questo anno già cominceremo a vedere spesso dei matrimoni dei terremoti che avranno come magnitù 6.0 in su infatti ce n'è stato uno a parte questo che l'ho visto prima che non l'avevo visto 6.3 in Russia ma ce n'è stato uno particolare molto particolare qui c'è un altro 6.0 eccolo qua questo però io voglio prendere il 0 eccolo qua 6.0 a Puerto Rico e un altro di 6 6.4 e 6.0 a Puerto Rico considerate che 6.4 6.0 a Puerto Rico è un qualcosa di altamente insolito qui ce n'è un altro di 6.2 eccetera 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 inoltre l'anello di fuoco composto da circa 1500 vulcani che si trova in questa parte qua eccola qua fa così in questo momento bolle e considerato anche il Messico con il suo mega vulcano Popocatepetlel che è un vulcano importantissimo ed è se non è il primo è uno dei vulcani più monitorati del pianeta se questo si attiva noi sappiamo che sotto sono tutti quanti attivati e si attiva bene poi si attivano e si vanno a concatenare quindi secondo me volesse Dio che io sbaglio ma se non è quest'anno il prossimo futuro imminente della storia è questo come dice Gioele 2 dal 28 in poi ok da quest'anno sarà molto comune secondo me ripeto non sto dicendo così dice il Signore vedere terremoti che partono da magnitù 6 in poi ecco qua lasciamo stare poi gli incendi in questo momento l'Africa l'Austria l'Amazonia tutto il mondo sta prendendo fuoco si potrebbe dire altro insomma questo è il quadro generale che ci circonda queste sono le prossime guerre alla luce della parola di Dio penso di aver detto tutto non so come mi è venuto sto video non lo so spero di essermi spiegato adesso lo vado a rendere pubblico pubblico ancora so 21 e 15 niente cari amici questo è stato il video lo volevo fare ieri sera ieri sera non ci sono riuscito oggi pure non me partiva e niente 1 ore 04 e niente con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti spero di essermi spiegato ci benedica ricordiamo che noi siamo figli di Dio e che non dobbiamo temere nulla perché il nostro Dio è appunto il nostro Dio e l'ira di Dio non è sui figli della disobbedienza è sui figli della disobbedienza quindi tutte quelle persone che hanno conosciuto la grazia di Gesù Cristo e che in questo momento sono tornate al vomito che sono tornate al mondo all'Egitto oggi è il tempo di riguardare in alto dice il Signore nella sua parola di tornare a Lui di invocare il suo nome per essere salvati di credere in Lui di procacciare pace santificazione senza la quale nessuno vedrà il Dio ah c'è una capra che ha detto per quale motivo il Signore ci ha lasciato l'Apocalisse se poi la Chiesa non vi dovrebbe passare rispondo capra agnostica forse per predicarla forse per annunciarla al mondo forse per dire al mondo guarda quello che succederà ravvediti oltre che il Signore non fa nulla di nascosto alla sua Chiesa caprone agnostico antitrinitario che non capisce un tubo ti fai un professore e non sei capace neanche a scrivere l'italiano tu dici a me che io non so parlare sì è vero e tu non sai scrivere e tu mi vieni a dire a me che io non so parlare ma vai a scuola cammina che non sai scrivere un verbo dietro un altro verbo per dire che non si fa per dire sì si fa però tu non sei capace a fare neanche quello allora questo è stato il video bene con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti il Signore vi benedica Shalom grazie a tutti